Per chi pensava di aver fatto un affare, potrebbe arrivare presto la beffa. Dopo aver approfittato dell'offerta, compro un'auto nuova, avrà in omaggio la polizza assicurativa, molti automobilisti si ritrovano sbalzati in ultima classe. Almeno 13.000 agli italiani incappati nel problema, molti, anche i salentini. Per loro, ben tre delle sei società di assicurazione aderente all'iniziativa hanno in serbo il ritorno alla diciottesima classe di merito, con il premio più basso e soprattutto la cancellazione di tutta la loro esperienza assicurativa passata. La denuncia è fatta dall'associazione Leccese Codici, che sul caso della promozione è fatta ad esempio dalla Mercedes per vendere le Smart. Con il regalo, l'assicurazione ha già sporto una denuncia all'antitrust, che ha multato la casa automobilistica con una sanzione di oltre 200.000 euro per pratica commerciale scorretta. Di sicura, una mara sorpresa, quella preparata dalle compagnie assicurative ai clienti, che a giudizio dell'associazione presenta profili di illegittimità, commentano Ivano Giacomelli, segretario nazionale codice Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali. Ci riserviamo perciò di procedere con un'azione legale, non escludiamo di lanciare una class section. La convenienza dunque sarebbe solo apparente, venendo meno anche i benefici previsti dalla legge Bersani, normativa che consente, in caso di acquisto di un nuovo veicolo, di ereditare la classe di merito già acquisita su un altro. È stato accertato dall'Ivas che sono tre le compagnie che hanno offerto polizze con formula tarifaria franchigie, tramite il libro matricola e, una volta scaduta l'offerta, non hanno rilasciato al cliente alcun attestato di rischio oppure un attestato privo dell'indicazione della classe di merito di provenienza.